Siamo qui con il professore Parente, direttore scientifico del Master RIS. Allora, si è appena conclusa la cerimonia, un bilancio di questa prima edizione? I bilanci si fanno mettendo a confronto il punto da dove siamo partiti con il punto da quale siamo arrivati. Siamo partiti con ottima materia prima, evidentemente, che è rappresentata da 15 giovani ricercatori di altissimo profilo, con dottorati di ricerca, che erano già inseriti in gruppi di ricerca. E su questa materia prima abbiamo lavorato, abbiamo lavorato con un gruppo molto composito di colleghi e di esperti esterni, sia dell'Ateneo che appunto al di fuori del nostro Ateneo. Lungo un percorso, è durato un anno e mezzo, e ha portato 15 giovani ricercatori a ragionare su quelle che erano le ipotesi, le opzioni di valorizzazione della loro ricerca scientifica. Tutto questo è tradotto in 10 progetti imprenditoriali, tutti estremamente interessanti, adesso siamo reduci da questa giornata finale nella quale abbiamo presentato questi progetti al di fuori dell'Ateneo, perché è bene che si sia non autoreferenziale, ma si sia sottoposti al giudizio e alla valutazione di soggetti esterni. Abbiamo invitato degli esperti di grande rilievo nei settori delle biotecnologie a livello nazionale e internazionale, che hanno apprezzato moltissimo i nostri progetti, hanno apprezzato la nostra capacità di elaborare progetti innovativi basati su una piattaforma di ricerca di prima grandezza, e questo ci rende orgogliosi. Si è trattato di un'esperienza bellissima, devo dire che io oggi ho assistito alle tesi di laurea dei 15 diplomandi al Master e ho trovato veramente grandi spunti di interesse, di interesse sia dal punto di vista scientifico, sia nella capacità di trasformare questa conoscenza in valore. 15 progetti, tutti molto validi, tutti portati avanti con grande entusiasmo, con grande competenza, ma anche con una grande visione e con la consapevolezza che al mondo d'oggi, se non si trasforma la conoscenza in valore, si spreca la cosa più importante che abbiamo nel nostro paese, la materia grigia delle persone. Siamo con il dottor Jaco Belli, esperto di innovazione e trasferimento tecnologico. Qui si conclude la prima edizione del Master RIS. Beh, certo, per quello che abbiamo potuto notare è stata un'iniziativa veramente degna di laude e con gruppi di giovani che hanno sviluppato realmente dei progetti molto interessanti, vicini al mercato, tutti molto rilevanti per quanto riguarda le applicazioni possibili. per cui devo dire che è un progetto forse anche unico nella sua specie, nel panorama italiano. Quindi sicuramente i migliori complimenti per l'iniziativa e credo anche che il futuro di queste progettualità possa essere abbastanza profittevole. Cerimonia di cos'era del Master RIS con il professore Piccaluga. Qual è l'esperienza di questi 15 giovani ricercatori che hanno partecipato al Master? Allora, io ho un quadro abbastanza completo di quello che succede a livello nazionale nel campo della formazione alla nuova imprenditorialità. E quello che mi ha colpito in positivo di questo gruppo è il mix. Mi sembra che l'iniziativa sia stata pensata sin dall'inizio per accogliere partecipanti con diversi background scientifici e secondo me questo in questo momento è effettivamente ciò di cui c'è bisogno. Più o meno in tante università si riesce a fornire formazione sull'imprenditorialità di buona qualità, così come qui, mentre non sempre si riescono a formare delle aule con background così compositi. Stamattino ho assistito anche alle discussioni delle tesi di Master e effettivamente è molto bello vedere competenze per esempio informatiche e più tipicamente delle scienze della vita insieme con un pizzico di business modeling, di formazione manageriale. Perciò mi sembra assolutamente la strada giusta e semmai anche da ampliare con l'inclusione di altre discipline, di altri corsi di laurea. Lei si occupa di spin-off accademici e come può attecchire anche a quanto riguarda soprattutto il placement? Ma allora, senza dubbio l'imprenditorialità di questo tipo può essere vista come una soluzione alla difficoltà di impiego. Però mi piace pensare non tanto alla possibilità di impiegare i due, tre, quattro fondatori. Mi piace pensare alla occupazione che può essere creata da queste imprese se crescono. È bellissimo avere un tot di imprese di tre, quattro persone, quelli che consideriamo, che chiamiamo talvolta artigiani tecnologici. Ancora più bello se qualcuna di queste imprese crescerà fino ad occupare 20, 30, 50 persone. Grazie a tutti.